Una nuova avventura editoriale per la Lisciani Libri. Già leader nei giochi e nelle pubblicazioni didattiche, l'azienda abruzzese debutta nella narrativa per adolescenti con i romanzi della Blacklist. È vero che è una collana che si chiama appunto i romanzi della Blacklist, incentrata sul giallo, ma il tipo di trattamento che abbiamo fatto è abbastanza originale, nel senso che ha un doppio registro narrativo, perché a fianco alla narrativa, alla narrazione attraverso la scrittura, c'è una narrazione fatta attraverso le immagini, per cui ogni capitolo si apre con un disegno che in qualche modo anticipa o crea una narrazione a sé stante, quindi tutti i capitoli hanno questo tipo di apertura. Questo anche per strizzare un po' l'occhio al mondo dei più giovani, quindi creare una collana che possa essere apprezzata anche dai più giovani che sono ovviamente attratti dal mondo del fumetto, del comics in generale. Negli autori abruzzesi, dicevo, di questa collana sono tre, lo stesso Davide Di Lodovico, poi c'è Alessio Romano, altro nostro orgoglio letterario, e poi c'è Caterina Falconi, che è una scrittrice poliedrica, non scrive solo per ragazzi, scrive tanto per ragazzi, crea personaggi di fumetti. È un esperimento nuovo per me, perché è scritto per una fascia intermedia, che è quella dell'adolescenza, quindi non più adulti, non più bambini da filastroca o da cartoon, ma l'adolescenza. Questa età magmatica, questa età ricca di potenzialità, mi viene da una suggestione, che è quella delle scarpe volanti, che è una pratica metropolitana, in voga soprattutto in America e in Inghilterra, che è quella dello Shufiti, e consiste nel lanciare le scarpe da tennis legate per i lacci e lasciarle appese ai cavi della luce. Sono protagonisti adolescenti ed anziani, vengono bypassati i miei coetanei, i genitori, anzi, quando sono descritti, sono descritti in una connotazione piuttosto negativa, per una latitanza, e racconto appunto di nonni, di nonni in relazione ai nipoti giovani, e nella fattispecie della misteriosa sparizione di due nonne, forse rapite per mano di uno psicopatico, che firma i suoi delitti appendendo le pantofole ai cavi della luce, le pantofole delle vittime ai cavi della luce. Alle stampe anche una raccolta di racconti dedicati alla luna, i 50 anni dell'allunaggio sono proprio nel 2019, si chiama Moon, 50 anni dall'allunaggio, racconti che tra l'altro verranno presentati a Chieti il 21 luglio durante la settimana mozzartiana.